Eccoci e bentornati sul mio canale, forse ci siamo, forse penso di aver capito, anche perché ho girato un altro quarto d'ora o venti minuti Allora, ho girato questo coso qui e ho visto che praticamente si potrebbe, quando praticamente mettiamo, guardate eh, mettiamo questo qui Questa illusione ottica sembra che quello è più alto, quindi io volevo fare praticamente questa cosa qui, guardate eh, vedete? Sembra che è più alto, eccolo infatti andavo bene, perfetto, ora, le cose sono due, prima di tutto E sì, bisogna mettice dentro la signora Hera, prendi la signora Hera, andiamo un attimo, speriamo di non sta a fare figuracce Allora, la signora Hera la mettiamo dentro, forza Quindi questo è fatto, eeeh, vediamo un po', eeeh, quello, e beh possiamo usare questo qua come coso, dai, facciamo così Tanto non ci serve più, ormai, la Hera ce l'abbiamo messa là, quindi, nel senso, penso questo vada qua Io ce lo metto, vediamo un po', dai, al massimo, continuo a riprovarci, vediamo un attimo così che succede, eh Mamma mia, sono un quarto d'ora, venti minuti buoni a cercare di capire, poi ho visto quella cosa che appena Se lanciavassi l'illusione ottica sembrava che gli scalini erano più alti, quindi Ci sono arrivato dopo un po', però ci è voluto un pochettino per capirlo subito al Al momento E vabbè, che ci vogliamo fare purtroppo Tante volte è preso dall'agonia del gioco Ok, perfetto, ok, l'ha andata bene, dai Ok, ah, ancora c'ha questa gemma Ah, l'ha rotta Ah, in modo che nessuno almeno ti segua E sì Pensate Bellissima, si illusiona Adesso dove siamo andati a finire, però? Io mi rimetto i miei due amici leoni Ok, qua che c'è? Ah, ancora l'arpia Hai guadagnato le cose da un'altra prospettiva No Perfetto, vieni qua Perfetto, portami di là, va? Ah Ok, dobbiamo fare sempre i passaggi con le altre Perfetto Tu, 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 tu Ok Questo che è? Aspetta, prendiamo prima l'energia magia che non la ho Forza Al contrario Che apre la porta? Su, su Sento rumore di catena Quindi sì Uè Mettetecela un po' più di spessore a sta porta Ok Salviamo, va? Mamma mia Che sudata quel labirinto Non riuscivo proprio a capirlo Poi alla fine Fortuna uno, nel senso Con un attimo di calma Sare ha messo a vedere Perfetto, dai Andiamo Questo che è adesso? Scorpione Ma guardate E vabbè, è abbastanza semplice Un paio di pugni Già morto Forza Speriamo che Non abbia Qualcosa di Di letale Nella sua coda Pensate Non l'avrei mai detto Uh, quanti Uh, quanti amici scorpioni Forza Amici scorpioni Ciao Ciao amici scorpioni No, no No amico scorpione Forza 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 Sì, sono facilmente Succedono molto facilmente Allora Qui vediamo che troviamo Ma E ora sape più Che altro Vedete bene Fiume della finisce Che era per la magia Vediamo un po' Sì, magia Ok Bene Vediamo un po' qui Rompiamo 5.000 punti Ci possono essere comodi Per Che servono 8 Però Già 5 Ce le mettiamo Ok Mancano 2 8 e 69 Sono curioso di sapere Dove siamo Se ci dici dove siamo Oh Ma che è Siamo andati giù Siamo andati giù E adesso Ok La cosa non promette Niente di buono Soprattutto quando andiamo Nei posti bui Vabbè tanto c'ho i due leoni Oh mamma mia Ok No Andiamo Forza Forza Pure gli scorpioni Al buio Ma guardate già Mettete paura Con la luce Pensate al buio Forza Forza Ok Forza Procediamo piano piano Oh Guarda quanti là State un pochini Perfetto Venirete tutti giù Mi dispiace Oh Ma proprio tantissimi Mamma mia E tutta la famiglia Tutta la famiglia A raduno Forza Dai Non voglio sprecare La magia Per uccidervi Però Ok Non rompete le scatole Questo Questo è rimasto Solo sul letto Forza Ok Andiamo Finalmente siamo ritornati Alla luce Ok Le energie Ce abbiamo quasi tutte Ok La non promette Niente di buono Quando ci stanno Ste specie di arene Le caverne Ma non c'eravamo Già arrivati Alle caverne Con questi Questi quadrettoni giganti Eh si Però Perché li siamo qui Chi sta qua Il dono di Adelf Ah Ok Il fuoco liquido Quello è il primo Poi Poi prenderò il dono Di Borea La tempesta Di ghiaccio Con quella Riuscirò Potrò riavere Mio figlio Qui con me Oh Che cacchio Sto uscendo Ed è qua Forza 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 Devo riuscire A fare in modo Che non mi attacchino mai Tanto se li prenda le gambe Questi non riescano a difendersi Tu rimani un attimo In disparte No Prendilo Quadrato 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 Cerchio No Che cacchio Gaccio Prendilo un po' Cavolo Quadrato C'è X Triangolo Manca uno Quadrato Ok E questo Ci ha salutato Adesso Tocca a te Sì La peppa Quanti ne stanno usci Sì Miliardi X Triangolo Cerchio Triangolo Quadrato Così anche E2 Li abbiamo salutati No No Sì La peppa E quanti siete Che cacchio Ma non è possibile Però No 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 Forza 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 Andiamo di acqua Forza Che c'ho Mica l'avevo visto Forza Andiamo Adesso ci divertiamo Forza 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 Andiamo Prendilo questo Triangolo Circhio Ah Grande Forza Grande Adesso si che ci divertiamo Siete Vabbè ma quanti cacchio siete Forza 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 No Mi ha atterrato Dai Questo è morto Mannaggia Ma perché Ci potrebbe essere ancora utile E va bene Dai Ah Che cacchio Forza No E no E no Che cavolo Morirò Sappiate Che morirò Che c'è sta là Forza 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 Aspetta 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 Che questo lo prendo Quadrato Vai Vai E vai Ok Forza No 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 Forza E che cacchio Scappa Tutti con ste cacchio De palle Forza 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 Scappa Scappa Oh Come sei riuscito A evitarle Non lo so Non ne ho idea Forza Forza Ricarica 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 L'arco Scappa Forza 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 La prossima La prossima volta Che sono preso Sono morto Sappiatelo Scappa Aspetta No Perfetto Via qua Via qua Via qua Via qua Preso Quadrato Dai Vai Anche all'ultimo Ok Devo stare attento Adesso all'ultimo Sfida Uno contro Uno No E non mi fido Di te Scappa Forza Scappa Amico Kratos Scappa Forza C'abbiamo Una tacchettina Proprio Vieni qua Vieni qua Vieni qua Prendilo X Dai Cerchio X Manca l'ultimo Quadrato Perfetto Abbiamo fatto Tutti i secchi Mamma mia È sudata Prendiamo qua Tutto quello che c'è Grande Corno di Minotauro Così ci aumenta pure Tutte le altre Cose da utilizzare Tra cui l'arco La luce Via dicendo Ok Poi Apri Ok Occhio di Gorgone Perfetto Allora Andiamo a vedere Lì che c'è Ok Tenta a non cadere Perfetto Prendi l'energia Zeus mi tiene sempre Il feto sul collo La sua presenza Si avverte anche Quando se ne va Sembra che Il cuore Del labirinto Sarà Sia una chiave Che una serratura Con i giudici Dediate Come chiavi stello Ma io prometto Che se non riaverò A mio figlio Tutto ciò che libera Sarà distruzione Caos Dedalo Giorno 3287 Ok Andiamo a salvare Su Su Che non salvi Amico Grados Ok Salva 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 Salvataggio in corso Le caverne Perfetto Andiamo Vola Ok Vediamo un po' Dove dobbiamo andare Adesso Devo capire Dove si va Di qua non si va Qua che c'ha Qualcosa per scendere No Di qua c'è qualcosa Forza Forza No Perché 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 Però c'era una cosa Che brillava Ma Qualcosa Ogni tanto Mi sfugge Allora Abbiamo salvato Scusa Di qua Non si può andare Giusto Dove vado Qui uguale Forza L'unica Andare per forza Di qua Con quella cosa lì No Dite di no Eh sì Ma dove devo andare Allora Qua Si scende No Tutti i bordi Sono tutti fatti E non posso Manca andare Non ce la faccio A volare fino di là Eh L'è chiuso No Tieni premuto Per estrarre la testa Usa la testa Per trovare i segreti Ah C'era qualcosa Forza Perfetto Eh C'era qualcosa Che non andasse Allora Dove siamo Oh Altri marchi ingegni Vediamo un po' Allora Questo lo prendiamo Poi vediamo L'annotazione Ulteriori esperimenti I traulici sono falliti Quest'opera è troppo grande Per qualsiasi macchinario tradizionale Spero che il mio viaggio Nell'Ade Per indagare sulle opere Dei giudici Possa rilevare Una nuova fonte di energia Ho sentito Di un fuoco più puro Di qualsiasi forza mortale Ogni fallimento Sento un mio filo Allontanarsi Sempre più Dedalo Giorno 275 Allora Volevo vedere Se potevo Intanto Sì Perfetto Le gestus Di Nemea Si potenziano A vista d'occhio Ok Le gestus Di Nemea Sono al massimo Quindi Le prossime Potenziamo La testa di Elio Dato che vedo che È servita Soprattutto contro Crono Ah ma era una Sembra tipo una finta Sembrava come se L'acqua stesse Già a quel livello Ah Si chiude il tappo E sale l'acqua Bene Pensate Che invenzioni Assurdo Ok Andiamo Perfetto Un colore intenso Si propaga Da questa seratura Meccanica In questo momento Non c'è modo Di attivarla Qua si potrà salire Sì Perfetto Andiamo qua Che ho anche Le armi Di Ercole Al massimo Così poi Mi dedico solamente Alle altre Vediamo un po' Questa Che aprirà Ah si sale Ancora voi Mamma mia Ma è possibile Non ci lasciate in pace Su Scorpioni Poi nelle caverne Che ci si possono trovare Giusti scorpioni No Che è Ah Dobbiamo salire là Aprire quel coso Ok Però c'è un po' Di buio Aspetta che Vediamo Che se no Me ne vado di sotto Cassa a sinistra Vai 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 Altra annotazione Ho perso la tempesta Di ghiaccio di borea Sarebbe dovuto essere Il tuo dono Mio figlio sarebbe stato Il signore del labirinto La ricerca continua A giorni e notti Ma gli scorpioni Diventano sempre più numerosi Temo il peggio Dedalo Giorno 4598 Apriamo qui E Vediamo Che si deve fare No Più che altro Come si faceva arrivare Su quel punto Che devo Devo salire Che c'è Un'altra entrata Sulla destra Vediamo un po' No Sto perdendo qualcosa Come faccio Andare lì su Aspetta E là c'è una rete Ok Perfetto Questi chissò Mamma mia Sempre In compagnia Devo stare Venite qua Vieni qua Medusa Forza 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 Ok Ma questo Che dobbiamo fare Ok Illumina mia Ok Vieni su Ok Perfetto Siamo arrivati Ho sbagliato tasto E va bene Dai Ho sprecato un po' Di magia Però Ok Mamma mia Che giro E quanti siete? Possibile Sempre in gruppi De 90 Ok Qua che è? Acqua Posso saltare Penso Meno di sotto Su 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 Ok Perfetto Ok Ok Questo sarà tutto Pieno di ingranaggi Sto posto Vai Spero Spero solo Non ci sia Nessuno Di gigante Ok Siamo ritornati un'altra volta alle caverne Allora la magia me la dai La magia Le energie me le dai Bene Qua rompiamo tutto Prendiamo queste Perfetto Perfetto Andiamo Allora Vediamo qua che dice Il labirinto Le sue proporzioni sono un tributo ai possenti dei per i quali è stato costruito Le sue trappole crudelle letali sono il lascito per i mortali che lo hanno costruito Quindi non erano Non erano i giardini Quello che pensavo io Erano proprio Era proprio le caverne il labirinto Ok Adesso Oh mamma mia Stanno salendo pochi vero? Veramente pochi Si Pochi Quindi vorrei che venisse anche la mamma Su Che se viene la mamma scorpione E' finita Dei proporzioni gigantesche Come sempre Speriamo di no Che non c'è questa possibilità Ecco Oh ma io nel senso Sarò che le cose Oh ve lo giuro in sto gioco Non ci ho mai giocato E non l'ho mai visto Io lo sapevo Dico Nel senso Ammazzatela Ammazzi tutti i figli Come cacchio fai voi Che non viene la mamma A lamentarsi Aspetta un po' Vieni qua Ma che cacchio è Ma scusami eh Su 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 Dove riusci a capire come si Si uccide Ma è più d'altro A chi stia sparando? Forza 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 Io colpirei sempre i tentacoli No Ok E' uno Abbiamo rotto Forza 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 Grandi Scappa Forza 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 Scappa Rompi quest'altro No Che cavolo Più che altro Più che altro se mi dassi Qualche energia Ok Qua perché ce ne stanno tre da rompere Non è che E' solo uno eh Anzi soffro proprio qua Sì vabbè Ma me lasci sta Ok Se me lasciassi in pace Ti romperei tranquillamente Forza 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 Ma mi fai un attimo rompere i tentacoli a tua mamma Ma è possibile che non mi dovete lasciare in pace Forza Ma non li rompe Ma che gli è successo alla mamma scorpione Se è un attimo incantata Forza 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 No scappa Forza Ok E' uno l'abbiamo preso Bene Ne rompiamo quest'altro E cacchio Stanno sempre i figli che rompono le scatole Che è quel coso che mette giù Perfetto Dai che così rompiamo pure quest'altro Se qualcuno mi desse qualche energia Non sarebbe male No Morto Che cavolo Io lo sapevo Nel senso me lo sentivo Che doveva in uno scorpione più grande Se no era inutile Che ci stanno tutti questi scorpioni Forza Per me si fa Con questi qua Però devo stare attento E quando c'è la coda Forza Rompi sta Zamporta Forza rompiamo quest'altro No 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 E che cacchio Ma come si fa a pevita Sta cacchio di coda Mortale Forza 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 No No Scappa Forza 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 Passiamo a quest'altra Ma Penso sia il caso No No Se venissero Se venissero in mio soccorso Forza 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 Prendilo Forza 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 Ok No Oh Che cavolo Si ma io come faccio con tutti Ah Ho recuperato l'energia Mi piace questa Aria Eccola E la peppa Mamma Scorpione Forza No Forza Ok Ho pure lo scorpione più grande No Stetti piccolini Ma Forza Eoh E che cacchio Eoh Eoh Su Su Andiamo Perfetto Ok Rompi sta cacchio Rompila un po Ok Scappa un po Scappa un po Dai che mi serve Questa Dai 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 Perfetto Scappa Questo Hai rimasto da solo Hai lasciato da solo tuo figlio Ah no Sono arrivati i fratelli I cugini I parenti I nipoti I nonni Ohi Scusa Scusa Ma che c'avete tutti Che dovete tutti Scusa Aspetta che ne è rimasta Una di qua Una di qua Oh Mi cacchio ha fatto a prendere Ah non mi ha preso Su Su No No Mi devi ridare i pugni Manca questa De zampotta Manca questa Dai 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 Aspetta che No No E dai Ma come è fatta a prendermi Ma come fai Ma mi spieghi come fai Dai È impossibile Su Rompi quest'altro Forza 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 Ok Rotta Forza 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 Dai 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 che devi diventare rosso Dai che diventa Vai prendila Quadrato Oh Che cavolo Su 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 Scappa Scappa Di qua Cerchio Bene Dai 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 E mi che la stiamo per ammazzare Vai No Che cacchio Come cacchio ha fatto Vai 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 E vai Lo stesso cungiglione dentro a te E mi che è morta Dai che è morta E andiamo Su 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 Ok E anche mamma scorpione ci saluta Ciao mamma scorpione Ok Trasforma in ghiaccio Pensate Pensate Che cos'è Sto coso per terra R1 Tempesta di ghiaccio di Borea Questa gemma racchiude l'alito di ghiaccio del vento del nord Forte Ah di Borea Perfetto Quindi abbiamo anche la tempesta di ghiaccio Mamma mia Ci abbiamo praticamente di tutto Non ci facciamo mancare niente Ghiaccio che scotta Bene Utilizziamo le ali di Icaro E andiamo Su Perfetto Ok Andiamo Qua sicuramente c'è un altro che dobbiamo utilizzare Perfetto Dai che dobbiamo uscire da questo labirinto Perché altro penso che qui dentro a questo labirinto ci dovrebbe stare Pandora Oh no Capito male Andate che giri Allora questo l'abbiamo fatto Torniamo indietro Ci dobbiamo andare a mettere a quel perno lì Ok Come facciamo arrivare lì Vai Vai Aspetta Aspetta amico mio Vai Ok Ok Preso Allora andiamo arrivare là Ok Aspetta No Sono andato liscio Sono andato liscio Sono andato liscio Riproviamo Allora Ok Ok Facciamolo tutto Ne Uno Due Uno E questo è un po' più difficile Perfetto Ok Benissimo Vendiamo i due amici leoni E andiamo a aprire questa porta Perfetto Vai Ok Che giri Si scompone tutto Questa Perfetto Ma No Che cavolo Ma è possibile Su 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 Aspetta Venite qua Ok 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 Perfetto Forza Su 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 Mamma mia Come vi faccio volare Come vi faccio volare Amici Ok Ma chi è questo qua Tutto rosso No Su 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 Ok Sono tutti trasformati in pietra Non ho capito com'è Forse sono riuscito a Prendi questo No No È possibile Che dentro a ste caverne Si riesce a fare un giretto In Santa Guardate quanto lo faccio volare Il Minotauro Quando lo colpisco Costi bei due leoni Ok Vieni qua Amico Minotauro Vieni da me Questo qual'era Quello che Ah Quello che Ci dobbiamo Inforchettare In bocca La spada Ok Ciao amico Minotauro Finiamo questi qui Non capisco chi è quello là Questo è nuovo Questo qua Non l'ho mai visto Rosso Lo scudo Buoni 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 Oh 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 State calmi Che è sta agitazione Forza E' rimasti solo voi due Lo spero Forza 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 E tu Farei una morte Brutale Benissimo No Ancora ce ne sta un altro Forza 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 Perfetto Ok Tutti Fatti Secchi Oh Altri salti Andiamo Dai Grados Allora Questi penso Siano tranquilli Vai Ok Perfetto Salta Benissimo Ok Salviamo Così Poi riprendiamo Dal prossimo episodio Qui All'interno Delle caverne E quindi Del Labirinto Salviamo Abbiamo ucciso Anche mamma scorpione E niente Ci vediamo Al prossimo video Con God of War 3 E Kratos Also take a look at our E T E T E T